Raddoppiare la presenza sulla costa dei Trabucchi e sviluppare progettualità che coinvolgano tutti gli stakeholder con l'obiettivo di creare un indotto da 25 milioni di euro attraverso un progetto di incoming turistico promosso da un gruppo di imprenditori italiani e lussemburghesi. L'obiettivo del piano J riguarda anche l'entroterra in tutte le sue sfaccettature. Reputation Review è una rivista destinata a tutti i manager di italiani e europei che nel suo primo numero destinato agli italiani d'America questa settimana, cioè l'ultima settimana di gennaio è uscito e quindi sta nelle edicole americane per gli italiani d'America con un servizio speciale sulla costa dei Trabucchi. A partire dalla primavera prossima ci sarà il volo diretto con il lussemburgo già prenotabile online. Di una regione, di una nazione fondamentale il collegamento. Il collegamento inizierà il 27 marzo, sarà bisettimanale ed è una grandissima opportunità di crescita per tutto il territorio perché arrivano famiglie e persone di un target medio-alto che hanno potere d'acquisto tre volte tanto rispetto a un italiano. Tanti sono i servizi che verranno implementati sin dalle prossime settimane grazie al Lux Tour e che saranno facilmente fruibili attraverso le piattaforme. Dall'alloggio, al transfert, all'assistenza, valorizziamo il territorio perché questa è la ricchezza che è unica, imprescindibile. Noi faremo di questo nuovo portale, di questa nuova piattaforma l'evoluzione, cioè il turista che verrà qui in Abruzzo, soprattutto del nord Europa, troverà la nostra società che è trabooking.com che la accompagnerà in questo percorso. Quindi non siamo semplicemente un tour operator, ma siamo una struttura che lavora a 360 gradi nel servizio completo per il turista.